Ciao, sono Giuliano, benvenuti al Leaf Bar di Lissone, un cocktail bar che ha aperto tutto il giorno e quest'oggi siamo qua per bere un drink a base di amaro alpino. Ho deciso di utilizzare questo amaro in una quantità anche abbastanza importante perché ha delle componenti che lo rendono molto molto lungo in bocca, quindi tutta la parte della radice di Genziana, fiori di Sambuco e salvia lo rendono estremamente profondo, quindi ho voluto unirlo a del pepe di Timur e a del bergamotto che danno la parte che è un po' più aggrumata nonostante siano uno un liquore e l'altro invece una sorta di sciroppo e del succo di limone. Lavorandolo sempre in stir, voglio meglio provato a fare in modo che questo amaro avendo una buonissima lunghezza in bocca unito alla parte aggrumata possa essere tanto lungo quanto dissetante, quindi avere fondamentalmente voglia di continuare e continuare a berlo. Ecco qua e saluta!